Sì, giovedì 22 è l'adozione in giunta del PUC, l'approvazione spetta poi dopo molti mesi al Consiglio Comunale, quindi giovedì è convocata la giunta per l'adozione del PUC, questo strumento fondamentale di pianificazione urbanistica. L'obiettivo nostro è quello di arrivare in giunta e di adottarlo per far sì che ci sia una visione nuova della città. Un appello ai partiti, agli assessori? L'appello è quello di dare attuazione a quello che è il programma elettorale, il PUC rispecchia il nostro programma elettorale, quindi naturale che venga adottato in giunta.